Io volevo dare allora la parola a Doris Lomoro, senatrice componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio. Avendo ascoltato tutto quello che è stato detto oggi, cosa si sente di dire? Lei che è stata una promotrice della Commissione dell'inchiesta sul femminicidio. Innanzitutto che condivido una cosa che hanno detto un po' tutti, a partire da Francesca Puglisi, che non bastano le leggi e la Commissione nasce sul presupposto, l'ha detto anche la Presidente di Astarte adesso, nasce sul presupposto che il legislatore, in questo caso il Senato, perché la Commissione monocamerale, si è reso conto e si rende conto in delle circostanze che non basta creare norme, perché quando tu leggiferi pensi che cambi qualcosa all'esterno e poi ti rendi conto che può non cambiare tutto o addirittura può cambiare molto poco, perché i numeri ci dicono che la violenza non è diminuita, i numeri ci dicono che anche le donne, i femminicidi non sono diminuiti e quindi ci dicono una cosa molto semplice, che non bastano le leggi. E questo mi sembra che sia il filo conduttore. L'altro motivo per cui il valore di questa Commissione è intanto nella sua nascita, perché è la prima volta che in un Parlamento si parla di femminicidio. Fino a quel momento era un termine anche quello di femminicidio che noi addirittura nell'atto istitutivo della Commissione abbiamo dovuto definire, riprendendo espressioni di convenzioni internazionali, perché non ci dobbiamo inventare nulla ovviamente, ma abbiamo dovuto introdurre nella registrazione italiana il concetto di femminicidio. Quindi questo vuol dire che è dei passi avanti. Quando un legislatore prende atto, definisce, affronta un problema, sa che c'è un problema, fa già un passo avanti. Ovviamente adesso io non voglio parlare dei compiti della Commissione o dei risultati che si vedranno. Ne approfitterei per dire che io ho letto molto attentamente il libro, se mi consentite vorrei parlare del libro e vorrei dire che io capisco l'atteggiamento di Anna Magri e l'atteggiamento di denuncia anche e di rabbia, che diciamo è nel libro. La rabbia, e lei ce lo dice anche nell'introduzione, che non ci vuole, non ci regala una, diciamo così, un libro da leggere, ci regala un libro che, come per dirla con lei, è un pezzo di carne, costato un pezzo di carne. Quindi la sua rabbia è una rabbia di chi si è accostato. Questa storia di dieci donne, in qualche modo soffrendo, questa storia le ha creato delle sofferenze autentiche e anche come le racconta, creano il modo di raccontare, che è quasi una scenografia, dieci storie che potrebbero essere rappresentate immediatamente, anche questa, come lo racconta, trasmette questa violenza. Io non sono molto, sono sensibile, senza altro siamo sensibili tutti, ma non sono facile alle lacrime. Ma mentre leggevi il libro tutto d'un fiato, perché dovevo venire a questo evento, in un'occasione, nella storia di Manuela in particolare, ho scoperto che stavo soffrendo, perché incalzava, la scrittura ti portava sempre dietro un'apparenza di normalità e anzi di ragazza facile da imbellettata, scopri una donna che ha avuto delle sofferenze atroci, ti accompagnava in questo percorso in maniera così incalzante da trasmetterti sofferenze. Quindi io il libro non l'ho letto come un libro sulla Calabria, lo dico subito, perché il concetto di Calabria, in questo libro c'è solo nel luogo di nascita dell'autrice. Oggi lei ci racconta che le 10 storie sono 10 storie di donne calabresi, l'avevo colto perché lo sapevo, ma questo per me rimane sullo sfondo. La violenza sulle donne in Calabria sicuramente avrà una sua specificità, però diciamo una cosa da cui siamo partite è che la violenza sulle donne non ha differenze né geografiche né di genere né di altro tipo, che poi in Calabria le risposte regionali e statali tardano. È una realtà, ma è una realtà dappertutto. Tra l'altro, se uno dei compiti della Commissione è verificare, lo dico perché l'ho appena detto Francesca, è verificare quei fondi che vengono assegnati come vengono spesi, perché molto spesso l'annuncio è l'annuncio di una cifra, ma poi devono diventare progetto, non devono diventare cose concrete. Allora io del libro incontra molto la mia sensibilità di donne e anche di operatrice del diritto su un punto specifico, e cioè sul fatto che è vero che la violenza di donne è una violenza che riguarda la società, coinvolge donne e uomini, che quindi dovremmo stare attenti anche non solo alle vittime, ma anche al carnefice, perché se non si guarisce il carnefice non si risolve il problema della violenza. Però, lo dico, l'ho detto anche in aula, la storia delle violenze è soprattutto una storia delle vittime. Guardate, questo libro ci racconta un particolare, che il dolore non è qualcosa di istantaneo. La storia di queste donne, delle varie tipi di violenza, della figlia, della moglie, della compagna, le storie che vengono raccontate ci dicono che la violenza fa male, anche perché dura molto, e quanto nasce improvvisamente, poi le conseguenze durano una vita. E allora, questo perché è importante? È importante innanzitutto perché crea la necessità anche di qualcuno che accompagni queste storie, al di là poi dell'episodio, che le accompagni verso una normalità possibile, che significa metabolizzare il dolore, incalarlo, eccetera. Ma significa anche che noi ci dobbiamo occupare delle vittime. Guardate, ultimamente stiamo facendo una battaglia nel Parlamento perché non sia possibile il risarciamento dei danni per lo stalking. Perché è importante questa battaglia? Perché pensare che spostare l'attenzione dalla donna al carnefice e quindi fare in modo che l'imputato, con un gesto simbolico delle volte, cioè offrendo denaro, possa risolvere il suo problema, è una cosa che contraddice profondamente l'analisi che stiamo facendo. L'analisi che stiamo facendo ci dice che il tema è soprattutto stare dalla parte delle vittime. Poi, e questo perché è importante? Perché in questo libro le protagoniste sono le donne. Quando invece leggiamo nelle croniche giornaliere le storie delle donne uccise, scopriamo che il protagonista, il giorno dopo della morte, non è più la donna, ma è l'uomo che uccide, perché di lui si parla e questo mi fa rabbia. Perché mentre nel libro, anche Rosina, l'unico caso di femminicidio presente tra i dieci, anche Rosina parla da morta e racconta la sua storia, quindi continua ad essere la protagonista di questa vita spezzata, e invece nella normalità dei casi, in quello che succede all'esterno, il giorno dopo si parla dell'imputato, della rieducazione, e questo è profondamente ingiusto perché nega alle vittime il dolore e duraturo, mentre all'esterno la notizia diventa una notizia, un trafiletto. Tutto il resto invece è invaso dalle storie, concludo dicendo che è vero che ci sono pochi femminicidi, però lo dico anche per ristabilire un po', guardate che l'accelerazione che c'è stata sulla violenza sulle donne è stato il caso di Fabiana. Fabiana è una ragazza di 16 anni, uccisa a Corigliano, che ha commosso l'Italia, quindi non facciamo, non creiamo barriere che ahimè non esistono, la Calabria ha già tanti tristi primati che crearne un altro mi sembrerebbe proprio fuori luogo, quindi la Calabria con il resto dell'Italia e con il resto dell'Occidente c'è dentro nella violenza sulle donne e nel femminicidio a pieno titolo, il problema è che magari spesso sono diversi rimedi e sono più pronti in alcune regioni e più fragili in un'altra. Questo libro però ci dà una profondità di lettura, soprattutto perché ci dice che la violenza non è solo quella del femminicidio, ce ne racconta altri tipi di violenza, io davanti ad alcuni che adesso non posso raccontare per molti di cui non posso discutere, in motivi di tempo si resta di stucco perché non ci si pensa quanta ipocresia c'è nella nostra società e quanta violenza c'è nelle case. E allora chiudiamo. Grazie Doris. Sì, io sono un appassionata, non mi fermo più.